Ciao, mi chiamo Da Cossi Carmine, sono italiano. La mia famiglia era a metà perché eravamo solo io e mia mamma, mio papà non c'era. Abbiamo lasciato a Napoli io e mia mamma e le motivazioni di lavoro e poi mamma conobbe quest'altra persona che poi si sposarono. Il viaggio lo abbiamo fatto in treno, eravamo abbastanza tranquilli, sapevamo già dove andare, anche se a Milano non avevamo parenti, non c'era nessuno che conoscevamo, però c'era già il punto di riferimento della casa di colui che poi sarebbe diventato mio padre. Arrivamo a Milano e andammo subito a casa dove conobbi i miei nuovi fratellino e sorellina. Poi ricordo che a Milano arrivai in un momento dove la scuola era già quasi alla fine del suo anno scolastico e infatti io mi inseri in una classe ma alla fine non passai perché non venni promosso perché c'era tutto un altro programma scolastico diverso da quello che c'era giù a Napoli rispetto a Milano. Poi niente nella casa di Milano ci siamo stati soltanto un anno e andammo a vivere in periferia a Rozzano che ci assegnarono la casa popolare e capì che era ormai diventata la mia nuova città. Allora di Milano mi ricordo poco perché siamo stati solo un anno anche per quanto riguarda giocare così giocavamo solo tra di noi a calcio a rampicarsi sugli alberi a rubare i frutti perché non c'erano bambini c'erano tutte aziendine molto distaccato da altre case. Invece a Rozzano mi senti molto più a mio agio perché essendo un quartiere di case popolari e poi in quegli anni paesi come Rozzano, Corsico, Buccinasco divennero proprio dei ghetti tutti gli effetti perché assegnavano le case popolari a quei tempi le case popolari le lavorano i meridionali. Mi ricordo che invece dovetti cambiare il cognome sui documenti perché fin a che mia mamma non si sposò con mio papà avevo il cognome di mia mamma sui documenti. Ora vivo sempre in provincia di Milano, ho una vita normale, la mia famiglia, mia moglie, Simona che ci conosciamo dalla vita, ci siamo conosciuti che avevamo 18 anni, abbiamo avuto due bellissimi ragazzi. Per quanto riguarda lavoro mi sono sempre adattato. La mia esperienza da migrante credo che tutto sommato sia stata positiva. Comunque nonostante tutto, che sia italiano, mi ricordo che mi sentivo dire molte volte che noi meridionali venivamo a Milano, al nord, a rubare il lavoro. A parte tutto questo mi ritengo abbastanza fortunato.